Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Merda! Ma per quale stracazzo di motivo? ...son testi sociali diciamo... Non ho tempo per nessuno io Esatto, fai il tuo, fai il tuo io questa cosa l'apprezzo tanto perché si vede che ti ci dedichi secondo me con le stesse modalità che hai tempo utilizzavi in cantiere magari Sì, era esattamente la stessa cosa Io non mi sono mai fermato dal timbrare il cartellino alle 8 e mezza nel senso io attacco la live alle 8 e 30 finisco alle 17 No, non ho le mani, ma balla su questa mia! Porco di quel... Io spero che tua madre scoppia di gioia figlio di puttana Che Dio caro quest'anno quando apri il tuo Cristo Dio di regalo di Natale Quella merda cornuta di tuo padre Ci abbia cagato dentro E quella stronza puttana di tua sorella Se la stiano inculata Comincia a salirmi l'hype per entrare Voglio giocare al mio videogioco preferito Bimbo Fortnite, suca creativa di merda a zucchero Ciao Pietro, grazie degli undici Io io! Pietro 94436 Undici mesi Porco diavolo Merda cazzo culo Che è quella madre troia che aveva la figa slabbrata Porca figa Porca figa Ci vediamo dopo ragazzi Te ne vai? A dopo boys Ciao Ernesto Cosa vuoi fare? Gigi, gigi, gigi Lo so, lo so quando è così Lo fanno incazzare e poi non gestisce Se vuoi andare con lui vai Non ti preoccupare Manita Il cazzo è money Money, 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 money Giala, giala Cim, cim, blim, blim So che giala E le focchi sono giala Blim, blim Che stop è Dio di quel dio Se sto lavorando Non accendete quel cazzo di porno De sottolineatura banana Diecimila patatine Ma se hai un... Porca troia E' apparso una signorina motore Che azzion Ma tu per caso riesci a passarmi La parte vuota del badge di Tempro? Devo mettergli un gufetto Devo mettergli 5 mesi Bella Xiair Non ho avuto ancora tempo di parare con Smart Quindi farò io Ce l'hai la base vuota? Se no lo devo rifare Abbiamo anche un'altra location Un po' più urban Come vedete Faccio le mie 8-10 ore Imprenditori Ha parlato pure più volte De quanto è importante Il fan Che comunque sta lì Che te da lui Il lavoro Quindi Non mi sembra neanche Quel tipo Che ce può fare Il discorso Lo fa per i soldi Non gliene frega neanche un cazzo Della gente che sta lì Perché è solo lavoro Ma l'importante è il prodotto Che neanche sarebbe una cosa Malvaggia Ma non è il suo caso Cioè ce l'ha detto Guarda che un minimo di bruciare Lo devi sentire Oh amo no No io te lo dico Ti mando via eh Abbassa la testa Aspetta 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 Dai Oh ma raga ma si può Aspetta aspetta Adesso lo sentiamo Sei pronto No non sono ancora pronto Cazzo Ma brucia ancora niente A me mi ha bruciato il naso Dai Piano no 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 Dai amore Quanto è scritto di C'hai qualcosa sul naso Eh ma sarà un cacero Oh amo ti prego non troppo dentro Dai va bene Non troppo dentro Ok ma sei dentro Ok sei dentro Ok sei dentro Ce n'è un altro pezzo No mi ha preso No non bezzate No non bezzate No è superman Cosa cacazzo si dice continuano a mettere pezzi di mappa raga un po sul chi va là ciao michele grazie dei 23 ciao dieca grazie dei 5 si udersi fa tre ciao bello ha detto non ho finito i soldi boh saion divento un po strano ciao calo ma invasato ma ragazze non si fermano gli posso sparare niente non si ferma raga non si ferma fermati a guardare ciao piano 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 si grazie prego un cazzo si grazie prego un cazzo dove ne frega un cazzo si ok grazie non me ne frega un cazzo la porca di quella pur cosa fittizia dov'è la merda dov'è la merda dov'è la merda dov'è la merda lo so che c'è da qualche ok perfetto bisogna già entrare e puoi decidere tu se entra sono anni che non metto giubbotti e come fa a uscire quando fa freddo congelato felpa ah no io al contrario uso il giubbotto niente sotto c'è maniche corte ora vabbè il giubbotto non ce l'ho quindi è andato alla gara una sky no build come faccio signori si ho sentito tranquilli c'è perché vincenzo ha fatto cose no 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 giro giro potete poi guardare i guardi vorrei capire usare il martello e ti hanno visto no nessuno ci ha sparato zi allora si l'ha ruota vincenzo cristo dio no stavo fermo ma porco persone dalle case mi dicono ah eccole eccole f ci hanno visto ci hanno visto stanno qua stanno qua vado un attimo ad ucciderle che se lo risalga si si sta qui sotto f ve li fate? si si allora non tengo su la felpa è che mi sta sudando la schiena vabbè stavo dicendo ragazzi ve la vinco questa eh va bene va bene tengo la io se non pensassi che streamare mi faccia stare meglio non streamerei non sto scherzando io so che con ci i bilan li fatti cazzi tolli quanti sa a vera anche i santi razzi cari quanti no cazzo di balli del cazzo e tu parti che era in e quello lì e quello lì è la questa cazzo è proprio vincere 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 è morto a teoria cos'è che hanno trovato? dei bilanci non proprio regolari oh merda ha fatto un altro nero come i pazzi eh hanno fatto scappa 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 merda hanno fatto scappa scappa eh scappa scappa quindi Agnelli non è più della Juve eh no si è dimesso ma il Gianni no il Gianni è morto il Gianni è vivo non lo so so che si chiamano Agnelli non me non lo so ho capito ma Gianni Agnelli penso che non ci sia più cazzo era vecchio quando c'era le foto in bianco e nero quindi o è il under o ho gente ancora qui io Andrea Andrea mi dicono eh infatti infatti il nostro amico Andrea il mio ca... oh oh lo spero perché un DMR non è un farfarline come ho sentito un indio qual...